E non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene Ognuno con la propria storia da raccontare Sono tutte storie incredibili, sono tutte storie che colpiscono Cantare di nuovo, sono la persona più felice del mondo È bello ripagare dei sacrifici di un genitore E pensare E tutti con la musica nel cuore Io ti voglio dare il cento e intoccati Saremo in undicina, ma più forti che mai Mercoledì prima serata, Canale 5